Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV che si apre questa sera con la politica perché c'è stato un vero e proprio ribaltone alla guida della provincia di Arezzo. Rispetto alla candidata uscente Silvia Chiassai sostenuta dai partiti di centrodestra ha vinto invece Alessandro Polcri sindaco civico comunque afferente al centrodestra ma sostenuto in questo caso dai partiti del centrosinistra e a quanto pare non solo appunto che ha prevalso. Sentiamo. Io devo dire forse anche un po' incosciente ma ci ho sempre creduto perché nella vita bisogna avere testa ma bisogna avere anche cuore. Un vero e proprio colpo di scena in provincia di Arezzo il nuovo presidente è infatti Alessandro Polcri il sindaco di Anghiari. Con 47.202 voti ponderati Polcri ha sconfitto il presidente uscente Silvia Chiassai Martini primo cittadino di Montevarchi sostenuta in questa ricandidatura da tutto il centrodestra che si è fermata però a 42.908 voti. Queste elezioni hanno cambiato il paradigma nel senso che mentre prima si ragionava per destra, sinistra, centro questa volta se voi andate a vedere, dunque non è che lo dico io, se voi andate a vedere i dati si va oltre questa logica. Alessandro Polcri si era anche messo a disposizione del centrodestra ma poi gli era stata preferita Silvia Chiassai Martini. Da qui la decisione di correre comunque alla carica raccogliendo evidentemente consensi trasversali ed infine la vittoria del candidato civico destinata ad aprire nuove tensioni nel centrodestra. Del momento in cui il presidente della provincia viene eletto da una consultazione di grandi elettori e non da un'elezione diretta del popolo è giusto che ci sia una sintesi fra i territori e non una divisione preconcetta. E dunque questo era un messaggio che ho dato, purtroppo forse in quel momento, in quella fase, le prime settimane di novembre non ha riuscito a trovare una totale condivisione, però vedo il voto nel segreto dell'urna, poi i fatti sono i fatti e dunque la provincia ritorna ad essere la casa dei comuni, come naturalmente legata alla riforma del rio e come si spera la provincia possa crescere ulteriormente nei prossimi anni. E su queste elezioni si esprime Simona Bonafè, segretaria regionale del Partito Democratico. Dalle elezioni provinciali di Arezzo dice esce un risultato affatto scontato che sancisce la divisione del centrodestra. La sconfitta politica di Silvia Chiassai è un metodo di governo della provincia chiuso e poco incline a rappresentarne il territorio. L'elezione di Polcri porta alla guida della provincia di Arezzo un candidato che ha saputo raccogliere intorno alla sua candidatura un consenso trasversale che vede nell'ente provinciale il luogo di tutte le comunità locali che ne fanno parte e non il presidio di un partito politico. C'è il commento anche della segreteria provinciale di Fratelli d'Italia che dice interrotto il buon governo di Silvia Chiassai. Il risultato delle elezioni provinciali dimostra ancora una volta che se la valutazione sul governo viene spostata dai cittadini alle consorterie trasversali ai partiti, i risultati di amministrazione vengono relegati sullo sfondo e appaiono in primo piano i percorsi politici personali, le piccole vendette locali, i rancori e le invidie che nulla hanno a che fare con il bene dei cittadini ma molto con manovre di palazzo ben orchestrate. Cambiamo argomento e parliamo adesso di sanità. L'influenza continua a mettere a letto centinaia di persone, tra queste ci sono i più piccoli e allora sono davvero giornate di super lavoro nel reparto di pediatria dell'ospedale San Donato di Arezzo. Il picco dell'influenza è atteso a Natale ma intanto continuano a crescere i casi registrati e ad essere colpiti sono soprattutto i più piccoli. Non solo l'influenza australiana di cui abbiamo imparato a conoscere il nome, sono i bambini più piccoli quelli a pagare un po' il prezzo più alto di questa influenza insieme alla terza età dove c'è anche il problema della fragilità. Devo dire di tranquillizzare la popolazione perché questi bambini in realtà hanno sì febbre elevata che può durare anche fino a 5-7 giorni, qualche volta anche di più, ma in genere queste forme, anzi nella grandissima maggioranza dei casi, non hanno bisogno di altro che di cura antipiretica, paracetamolo o ibuprofene e di idratazione, riposo e la malattia guarisce spontaneamente senza bisogno di fare altro. Di solito non si dà terapia antibiotica, questo è solo il pediatra curante o il medico in ospedale che se trova una complicazione batterica prescrive anche l'antibiotico. In genere non si cura con l'antibiotico e quindi spontaneamente la risposta immunitaria permette la guarigione di questi pazienti. Insieme all'influenza noi i nostri pronti soccorsi c'è un'altra emergenza invece molto molto importante anche di più ed è il dilagare della infezione da virus respiratorio sinciziale che è la causa della bronchiolite. Ora questa è una patologia sempre infettiva su base virale che si trasmette sia sempre per via aerogena quindi attraverso le goccioline del respiro e quindi in parte prevenibile con l'uso di manovre tipo utilizzare le mascherine e i lavaggi delle mani e questa è una infezione che ci preoccupa molto perché i nostri reparti sono soprattutto soprattutto si stanno riempiendo di piccoli pazienti al di sotto dell'anno di vita che hanno bisogno di assistenza respiratoria di ossigenoterapia di ossigenoterapia ad alti flussi questi sono piccolini che ci danno da fare che stanno anche ricoverati 5, 7, 10 giorni e quindi hanno problematiche importanti. Quanto riguarda invece l'influenza c'è anche la vaccinazione per chi ancora non la contratta. Allora ecco, altra notizia importante chi avesse dei bambini piccoli sotto i 6 anni che ancora non hanno avuto la fortuna di non avere contratto l'influenza e li invito a fare la vaccinazione di... sono sempre a tempo per fare la vaccinazione anti-influenzale la quale funziona e ovviamente come tutte le vaccinazioni c'è un periodo in cui è almeno di 7-10 giorni prima che inizia a funzionare però io correrei a ripari subito e presto. Siamo alla cronaca, trasportava in un autocarro frigo carcasse destinate al consumo alimentare senza però garantirne le condizioni igieniche necessarie è stato dunque fermato e denunciato dalla Polizia Municipale di Arezzo ed è stata elevata una multa per oltre 10.000 euro l'episodio risale allo scorso sabato perché proprio la Polizia Municipale in vista delle festività natalizie ha intensificato i controlli per monitorare le normative riguardanti la sicurezza alimentare l'episodio è accaduto in zona Campo di Marte e parliamo adesso invece del sesto rapporto relativo al 2021 sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in Toscana che purtroppo diciamo fanno ribattezzare ecco la nostra regione un po' come variante Toscana non riguarda purtroppo un virus insomma appunto una specificità territoriale sviluppata dalle organizzazioni criminali secondo il rapporto realizzato dai ricercatori della Scuola Normale Superiore di Pisa in attuazione dell'accordo di collaborazione tra la Scuola e la Regione Toscana lo studio conta 45 principali episodi di proiezione criminale e delle loro caratteristiche pare sempre più evidente la capacità di penetrazione criminale anche in settori e distretti produttivi rilevanti sotto il profilo economico come il tessile, il conciario e i rifiuti la nostra città si classifica terza per i beni confiscati alla mafia e adesso invece parliamo di una iniziativa davvero importante che probabilmente vedrà la luce nei prossimi anni ma intanto è già stato segnato una prima tappa necessaria ovvero la validazione da parte della giunta guidata da Alessandro Ghinelli l'assessore Giovanna Carlettini ha annunciato proprio oggi la decisione assunta appunto dall'esecutivo che comporta l'individuazione di un'area di circa 7.000 metri quadrati adiacente al cimitero di San Zeno per la realizzazione del cimitero degli animali sarà un luogo decoroso dice delimitato da locali di servizio da un'aurea di sosta raggiungibile grazie ad un'adeguata viabilità erano molte le richieste dice l'assessore che mi erano pervenute in questi anni da parte dei miei cittadini e adesso finalmente troveremo una soluzione per rispondere a questa importante esigenza e con il prossimo servizio andiamo invece a Cortona che proprio ieri ha accolto ufficialmente il nuovo vescovo Andrea Migliavacca così l'abbraccio di Cortona al nuovo vescovo Monsignor Andrea Migliavacca accolto domenica 18 dicembre nella chiesa di San Domenico in piazza della Repubblica il nuovo vescovo ha salutato gli scout cortonesi e tutti i giovani presenti poi è stato accolto da tutta la popolazione con il sindaco e tutte le autorità è stato proprio il primo cittadino Luciano Meone a rivolgere il primo saluto al vescovo a seguire i terzieri cortonesi con gli sbandieratori e le chiarine gli hanno reso omaggio con un'esibizione l'incontro ha avuto il suo culmine nella celebrazione presieduta dallo stesso vescovo alle 17 nella concattedrale di Cortona alla presenza di tutte le comunità parrocchiali e così il vescovo Andrea ha confermato la sua vicinanza alla comunità cortonese nello stile semplice e cordiale che lo ha contraddistinto fin dal suo arrivo c'è una varietà di presenze che dice una partecipazione e perché una comunità sia viva deve esserci la partecipazione e il contributo di tutti voi oggi qui lo rappresentate una partecipazione vera dove ciascuno porta la propria vivacità la propria competenza il proprio tempo il proprio aiuto e nel gioco di questa partecipazione vogliamo esserci anche come comunità cristiana le parrocchie la chiesa la diocesi io come vescovo vogliamo entrare nella vita di Cortona ed esserci partecipando e proprio questa mattina con Fartigianato e Coldiretti hanno consegnato al vescovo Miglia Vacca la statuina del presepe 2022 22 che raffigura la Floro Vivaista in ricordo dell'impegno per uno sviluppo economico sostenibile e rispettoso dell'ambiente in particolare proprio per uno dei settori che in questi anni con la pandemia soprattutto con la guerra in Ucraina ha subito ingenti perdite con il prossimo servizio parliamo di presepi viventi perché proprio ieri ci sono state le prime due uscite in Valdichiana prima uscita per i due presepi viventi in provincia di Arezzo entrambi in Valdichiana qui siamo ad Oliveto borgo del comune di Civitella in Valdichiana i vari mestieri sono stati ricostruiti grazie alla partecipazione di tutta la comunità si replica il 26 dicembre dalle 15.30 alle 19 ed è tornato il presepe vivente anche a Castiglion Fiorentino qui mancava da due anni per via della pandemia e questa è la trentesima edizione nelle vie del comune della Valdichiana tutta la magia del Natale il presepe ha fatto riscoprire ai visitatori le caratteristiche strade e piazze del paese spesso dimenticate in un percorso che a partire da piazza del comune giunge fino alla capanna della Natività con la Sacra Famiglia nei pressi di piazza Sant'Agostino una particolarità Maria per l'appuntamento del 18 era giustamente ancora in dolce attesa mentre per il prossimo appuntamento il bambinello sarà nella capanna anche in questo caso si replica il 26 dicembre a partire dalle 17 dai presepi alla Fiera del Ceppo anche questa una tradizione natalizia che è tornata a Lucignano Mercatini stand enogastronomici street food tanta musica e ovviamente il villaggio di Babbo Natale quella di ieri è stata una domenica di festa a Lucignano con il tradizionale appuntamento della Fiera del Ceppo che ha animato i vicoli del Borgo della Valdichiana con tante attività sullo sfondo delle luci e dell'atmosfera natalizia una giornata meravigliosa grazie all'ottima organizzazione del nostro ufficio turismo a cui va un ringraziamento strepitoso Enrica Castioli e l'assessore Stefano Cressi ai nostri ragazzi dell'ufficio tecnico perché davvero fanno ogni volta un lavoro eccezionale insieme alla nostra Proloco che cura la revocazione dell'antica Fiera del Ceppo insieme al nostro gruppo folcloristico alla banda di Lucignano e soprattutto alle contrade che faranno lo street food durante tutta la giornata e poi non possono mancare i nostri ragazzi quelli dell'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini che in tutta la giornata si esibiranno nelle nostre vie del meraviglioso Borgo di Lucignano dall'infanzia fino alle medie ecco che abbiamo voluto riportare la tradizione la nostra storia e la nostra cultura ecco ma perché si chiama Fiera del Ceppo? perché il Ceppo si svolge naturalmente la settimana prima di Natale quindi è il weekend prima di Natale e il Ceppo è quel grosso pezzo di legno che i nostri nonni mettevano sul camino per Natale che doveva durare il più a lungo possibile quindi la ricerca del Ceppo la ricerca del pezzo più grosso perché il Ceppo è sempre stato il simbolo del Natale e sempre in tema natalizio è arrivato invece a Monte San Savino il mercato delle Pulci in questa edizione straordinaria quando il regalo di Natale fa rima con l'usato e il second hand è stata una giornata di grande affluenza quella di domenica 18 dicembre al mercatino delle Pulci nell'edizione straordinaria di Natale ospitata nel borgo di Monte San Savino in Valdichiana nonostante il rinvio a causa del maltempo questa edizione era fissata in una due giorni il 10 e l'11 dicembre i banchi oltre 100 hanno affollato le strade e le piazze del borgo c'è chi per l'occasione si è persino vestito da orso per incentivare le vendite soprattutto attirando i più piccoli e chi ha portato tra i banchi oggetti davvero originali come il prete il vecchio scaldaletto delle nonne ma ce n'era davvero per tutti i gusti dal vintage all'usato dalla curiosità all'oggetto raro insomma c'era solo di che sbizzarrirsi per fare un regalo di Natale o per farsi un regalo e che in certi casi era anche solidale presenti infatti anche i banchi delle associazioni di volontariato del territorio e dell'immancabile Calcit insomma una ricetta quella del mercatino delle pulci che ormai si rivela sempre vincente a Natale forse con un pizzico di magia in più a cui non resistono nemmeno i VIP tra i banchi anche quello dell'attore Uberto Kovacevic Siamo alla pagina della cultura Cyrano de Bergerac il teatro canzone di Arturo Cirillo arriva al teatro Petrarca Mi svincolo paro vi blocco signore cari arrivederci e voi signor Conte andate all'inferno perché alla fine della licenza come detto io tocco Sirano de Bergerac il poeta spadaccino raccontato da Edmund Rossat alla fine dell'Ottocento abbandona le sue malinconie e diventa un performer che soltanto sul palco riesce a riconoscersi in scena al teatro Petrarca di Arezzo l'adattamento di Arturo Cirillo se questo maledetto mio naso che mi anticipa di un quarto d'ora ovunque che mi vieta di amare chiunque chi dunque io amo chi è la donna mia ma è chiaro chi è è la più fulgida chi ci sia un modo nuovo per raccontare la famosa e triste vicenda d'amore tra Sirano Rossano e Cristiano attraverso non solo le parole ma anche la musica questo è l'elenco molto spiccio del mio pasticcio del mio pasticcio fondamentalmente sia Cristiano che Cirano in fondo creano una specie di avatar cioè nel senso che creano un personaggio che per realtà nella vita non esiste insomma nella vita diciamo reale è una come dire appunto una specie un po' di invenzione o di mistificazione o di sortilegio in cui appunto praticamente Cirano offre diciamo le parole a Cristiano e Cristiano in qualche modo come dire offre a Cirano come dire invece una sua come dire bella presenza e fascino insomma personale Rossano in tutto questo in qualche modo come dire anche lei in qualche modo sta anche lei anche un po' rincorrendo un amore molto ideale infatti qualche modo scoprirà che poi in fondo poi il vero amore non è tanto quello come dire detto con le parole ma è più quello diciamo sentito con il cuore se ne è andato lasciando un grande vuoto Arezzo dice addio a Michele Tocchi 38enne critico d'arte stimato e apprezzato da tantissime persone originario di Bibbiena è stato autore di pubblicazioni attribuzioni di opere divulgatore ha anche vestito e panni di guida turistica accompagnando turisti e retini alla scoperta dei tesori di Arezzo e dell'Italia nei prossimi giorni avrebbe dovuto tenere una lezione all'università dell'età libera dove era docente alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione siamo allo sport si chiude purtroppo con una sconfitta questo 2022 per le ragazze a Maranto si chiude con una sconfitta il 2022 dell'Arezzo calcio femminile che perde 2 a 0 a Cittadella nella dodicesima giornata di Serie B le Venete aprono le marcature dopo appena 5 minuti risposta corta della retroguardia a Maranto con Guli ne approfitta e infila Sacchi poco più tardi Ferrina sfiora il raddoppio con un sinistro al volo che termina poco fuori le ragazze le ragazze di Mister Testini provano a reggere ma il Cittadella tiene botta al 62esimo rigore per le Venete dagli 11 metri si presenta Fagion ma sa chi para appuntamento con il raddoppio solo rimandato per il Cittadella al 76esimo con Guali sigla la seconda rete di giornata su assist dalla destra di Nichele il match finisce così 2 a 0 per le padrone di casa il 2022 dunque si chiude con un risultato amaro per le ragazze di Mister Testini ed ancora un capo in questo caso però parliamo di basket perché l'Amen Scuola Basket esce appunto sconfitta dalla gara contro la capolista Castel Fiorentino sconfitta esterna per l'Amen Scuola Basket Arezzo nell'ultima partita del 2022 i ragazzi di coach evangelisti privi dell'infortunato Provenzal vengono superati da Castel Fiorentino che trova nell'ultimo quarto lo scatto vincente partita divertente da seguire con entrambe le squadre più votate all'attacco l'Amen però è attenta a non far scappare via gli avversari e dopo il 23 a 17 del primo quarto rimane in scia ai padroni di casa nella ripresa l'inerzia della partita cambia a favore degli Amaranto ottimo gioco di squadra permette alla SBA di mettere la testa avanti 59 a 64 al trentesimo il momento chiave della partita è però all'inizio dell'ultima frazione Castel Fiorentino segna subito tre tiri dalla lunga distanza che valgono il controsorpasso ed un'iniezione di fiducia notevole per la squadra di Coccia Angiolini l'Amen non è così fluida come in precedenza ma riesce comunque a rimontare cinque punti di svantaggio andando ad impattare sul 76 pari a due minuti e mezzo dalla fine altre due triple di Rosi e Nepi tagliano definitivamente le gambe ed il morale degli Amaranto che alla fine pagano anche un deficitario 19 su 33 ai tiri liberi che in una partita punto a punto è stato un fattore determinante i padroni di casa gestiscono gli ultimi possessi non fallendo dalla lunetta conquistandosi la vittoria con il punteggio di 88-83 all'Amen rimane la mano in bocca di una partita giocata a visaperto contro la prima della classe ma sono tanti gli spunti positivi su cui lavorare durante la sosta del campionato che riprenderà il 7 gennaio nel frattempo la SBA sarà impegnata nella Final Four di Coppa Toscana in programma Cecina il 3 e 4 gennaio prossimi in semifinale l'Amen affronterà l'Olimpia Legnaia Firenze nella riedizione della finale 2020 di questa manifestazione che premiò al Palasport la compagine fiorentina è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per la cortesia e attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi grazie per la visione 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 grazie per la visione